Io mi trovo qui nell'ospedale del Ciascini Stresa, oggi per loro grande goleata, grandissima vittoria, qui con me c'è Gabriele Rabaioli e Aloha. Iniziamo subito con la presentazione della squadra, prima volta che vediamo Gabriele Rabaioli e la presentazione della squadra, nel senso, si è cambiato dall'anno scorso qualcosa? Sì, sono cambiati alcuni giocatori, abbiamo avuto dei nuovi innesti, tutta gente giovane e stiamo carburando, penso che per le prossime partite faremo ancora meglio di oggi. Senti, vuoi parlarci del match? Dici cosa, un breve riassunto? Sì, allora stiamo giocando oggi bene, anche come le altre partite hanno perso con la Liva e questo noi facciamo vinto 6-2, anche giocato bene, anche il centrocampo lì è giocato bene, anche prima, anche lui è giocato punta, prima ha fatto una gol, sì. Ah, a proposito, visto che è presente anche qui il mister, adesso lo inquadriamo che sia per entrare nel video, un commento come oggi... Stiamo tornando, state attenti perché stiamo tornando, ok? Non cantate da Galli, voi che giocate la domenica, venite a giocare al sabato, stiamo tornando! Sì, sì! Grazie, grazie per la disponibilità, ragazzi, bocca al lupo per la prossima! Bravo Ema, bravo Ema, complimenti, complimenti a tutte e due, grazie!